Spesa e farmaci a domicilio per le persone anziane e in difficoltà grazie ad un vero e proprio esercito di volontari. Riparte così da lunedì 9 novembre la rete di protezione e tutela che il comune di Arezzo aveva già attivato nella scorsa primavera. L'iniziativa che all'epoca Lucia Tanti aveva chiamato Progetto Nonni Sicuri Nessuno Lasciato Solo consiste in un servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità, alimenti, igiene personale, della casa e farmaci a favore delle persone anziane ma anche di quelle non anziane che a causa delle precarie condizioni di salute, di autonomia o di solitudine non possono provvedere autonomamente o contare su sostegni familiari. Chiunque sia in una condizione di difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, sottolinea il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Lucia Tanti resta sotto il nostro occhio vigile. Nei mesi di marzo, aprile e maggio, grazie ad un avviso pubblico a cui hanno risposto numerose associazioni siamo riusciti a creare un gruppo di volontari che ci hanno supportato in questo intento solidale. Adesso il messaggio che vogliamo dare è presenti ancora una volta. Intendiamo fare sì che le persone fragili restino il più possibile protette e dunque non entrino in contatto con potenziali situazioni di pericolo generate dal sovraffollamento e lo facciamo anche a garanzia del tessuto economico cittadino. Gli interessati potranno dunque chiamare il numero 0575 37 72 81, esporranno le loro esigenze e gli uffici comunali si adopereranno per rispondere alle stesse.